Ciao ragazzi, bentornati con il programma The Push. Abbiamo archiviato il nostro primo allenamento e siamo pronti e sono carico per mostrarvi il prossimo allenamento, dove sono sicuro che ne vedrete delle belle. Come al solito vi spiego la metodologia che andremo ad utilizzare, ovvero sarà quella EMOM, ovvero Each Minute on Minute, tradotto letteralmente ogni minuto al minuto. L'obiettivo è quello di portare al termine la sequenza di esercizi che tra poco vi dirò nel minor tempo possibile, per poi recuperare fino al minuto successivo. Forza! Eccoci pronti per cominciare, andiamo a fare una sequenza di esercizi nell'arco di un minuto per un totale di otto minuti, quindi faremo otto giri complessivi. Andiamo a fare crunch inverso, dodici ripetizioni, side up, otto ripetizioni per lato e criss cross, venti ripetizioni. Forza, cominciamo! Posizioniamo bene le mani sotto i glutei, contrazione dell'addome, via! Uno, due, tre, quattro, forza! Spingiamo verso l'alto, cinque, sei, sette, otto, nove, dai! Dieci, altri due! Una e due! Forza! Uno, due, spingiamo verso l'alto con l'anca, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto! Forza! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto! Venti criss cross, forza! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci! Io ci ho messo 50 secondi, ragazzi! Recuperiamo 10 secondi e ripartiamo con lo stesso giro! Mi raccomando, focus sull'addome! Forza, via! Uno, due, tre, quattro, forza! Cinque, sei, ricordiamoci di spingere verso l'alto! Sette, otto, nove, dieci! Forza! Uno e due! Subito, subito! Side up! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto! Cambio! Cambio! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto! Forza! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci! Cinque secondi di recupero, ragazzi! Ripartiamo subito! Tre, due, uno, via! Forza! Uno, inizia ad essere più tosta! Tre, quattro, cinque, sei, sette, otto! Forza, ragazzi! Nove, dieci, uno, due, forza! Side up! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto! Via! Cambio! Ragazzi, inizia ad farsi tosta al terzo giro! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto! Forza! 20 criss-cross! Promolliamo! Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci! Forza, ragazzi! Siamo a metà dell'opera! Forza! Partiamo con 20 criss-cross! Forza! Uno, dodici criss-cross! Scusate! Due, tre, quattro, sei, sette! Dai! Otto, nove, dieci! Uno e due! Forza! Side up! Dai, ragazzi! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto! Se siete stanchi, riposatevi, ragazzi! Uno, due, tre, quattro, cinque, sette, otto! Forza! 20 criss-cross! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci! Uno, due, tre, quattro, cinque, sette, otto, nove, dieci! Forza, ragazzi! Cinque secondi e si riparte! Via! Abbiamo quasi terminato il nostro allenamento! Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci! Uno, due! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto! Forza! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto! Venti criss-cross! Forza! Uno, due, tre, quattro, cinque, sette, otto, nove, dieci! Questo giro ha dato un po' più il gas! Abbiamo recuperato cinque secondi! Forza! Ripartiamo! Andiamo! Vamos! Uno, due, tre, quattro, cinque, andiamo sempre al massimo! Sei, sette, sono solo otto minuti! Nove, dieci! Uno, due! Fa otto minuti ma sono tosti! Forza! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto! Venti criss-cross! Forza! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci! Dai! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci! Stavo perdendo un po' il gas, ragazzi! Un attimo che mi riposo anch'io! Dai che mancano gli ultimi due giri! Forza, ragazzi! Cinque secondi e partiamo! Dai! Via! Uno, due, tre, forza! Quattro, spingiamo verso l'alto! Cinque, sei, sette, otto, nove, dai! Dieci! Uno, due! Forza, sei adatto! Via! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto! Forza! Cambio! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto! Forza, ragazzi! Venti criss-cross! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, manteniamo la contrazione addominale! Dieci! Uno, spingiamo verso l'alto! Due! Forza! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto! Forza! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto! Forza, ragazzi! Venti criss-cross! L'ultimo! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci! Wow! Abbiamo concluso il nostro workout per il nostro addome! Forza! Ottimo, ragazzi! Abbiamo concluso il nostro allenamento con il focus sull'addome! Adesso non resta che fare un spuntino proteico con un buon drink! Ci vediamo al prossimo allenamento! Forza!